E' stata sottoscritta a Firenze nella sede dell'Unione delle Provincie Italiane dai presidenti delle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena l'intesa preliminare per l'adozione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Roberto Vasai, Leonardo Marras e Simone Bezzini hanno firmato l'impegno a portare in approvazione l'adozione del piano nei rispettivi consigli provinciali entro 30 giorni. La data indicata, uguale per tutte le tre province per rafforzare il concetto di programmazione di aria vasta che è nella filosofia dell'accordo, è il prossimo 21 gennaio. Un impegno rispettato grazie ad un lavoro di squadra importante fatto dai nostri uffici ma non solo, il coordinamento delle province del lato sud ha dato, io credo, dei risultati importanti, importanti per i nostri territori e per le nostre comunità attraverso una razionalizzazione degli impianti che prevedono sicuramente a monte una raccolta differenziata importante che necessita condurre in porto prima possibile ma io credo aver innanzitutto riunito i nostri abitanti, i nostri territori nel lato della Toscana sud a partire dal Val d'Arno, noi vediamo, ci sono precisi impegni che partono dal non raddoppio degli inceneritori di Arezzo ma dal suo restyling ad una chiusura della discarica di poteri rota di Castiglione-Fibocchi, insomma una razionalizzazione complessiva del settore attraverso un impegno di tutti e tre i territori della Toscana sud che fa ben sperare anche per un'azione positiva in questo settore da parte di questi territori e del lato della Toscana sud. Dare continuità e innovazione al sistema di gestione dei rifiuti Siamo convinti di dover cambiare, siamo convinti che attraverso questo piano si migliora l'ambiente e siamo convinti che per i prossimi vent'anni il nostro territorio non sarà in emergenza dei rifiuti ma avrà una gestione matura del sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.